Aiesi ritrovata una bottiglia incendiaria davanti alla sede della CGL, il sindacato commenta non ci faremo intimidire. A Macerata un blitz dei carabinieri libera un giovane inglese sequestrato da otto giorni, era scalzo, ammanettato e chiuso in una stanza, per lui sarebbe stato chiesto un riscatto di 7 mila euro. A Urbagna i carabinieri arrestano un uomo per rapina a mano armata, la polizia di Pesaro sventa una truffa agli anziani mentre a Fano la guardia di finanza denuncia un imprenditore che ha evaso il fisco. Pochi giorni senza il nostro servizio e il sistema collassa, è tempo di fermarsi su Fano TV Michele Giovagnoli, scrittore alchimista che gira le piazze di tutta Italia per dire no all'obbligo del Green Pass. Manifestanti in piazza contro il certificato verde sabato ad Ancona e il No Paura Day, mentre domani appesero un presidio per la libertà in piazzale Lazzarini. Lavoratori senza Green Pass, sciopero del mondo della scuola e caos trasporti. A Fano Aset garantisce i servizi essenziali ma non esclude ripercussioni. A Pesaro e Gabic le farmacie comunali potenziano il personale e l'orario per i tamponi. In viaggio in Itti un nuovo app dedicato ai tester rapidi. Buonasera da Occhio alla Notizia, lo avete sentito nei nostri titoli. Oggi Iesi è scattato l'allarme per una bottiglia incendiaria che è stata rinvenuta davanti alla sede della CGL. Per fortuna non è esplosa e ora la Digos indaga sull'episodio. Per il sindacato è un gesto intimidatorio. Una bomba Molotov è stata ritrovata questa mattina alle 8.30 davanti alla sede della CGL di Iesi. La bottiglia incendiaria era appoggiata a terra davanti al cancello della struttura di via Colocci. Conteneva un liquido infiammabile e uno stoppino che ha provocato solo un principio di incendio, annerendo una parte della parete ma senza esplodere. A notare l'ordigno, ancora fumante, è stato un residente della zona che ha spento le fiamme e avvisato il personale del sindacato al lavoro. Per fortuna non ci sono stati danni a persone o cose, ma lì vicino c'era una cabina di contatori e in caso di esplosione le conseguenze avrebbero potuto essere molto più gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos e la polizia scientifica che hanno sequestrato l'ordigno e ora indagano sull'episodio. I vertici locali del sindacato parlano di un grave gesto intimidatorio. La CGL ha già sporto denuncia contro i gnoti, intanto hanno ribadito che il sindacato non si farà intimidire ed anzi hanno dichiarato invitiamo lavoratori, pensionati e cittadini a partecipare alla manifestazione di sabato a Roma. Solidarietà alla CGL è arrivata da più parti, anche dal presidente della regione Marche Francesco Acquaroli che ha telefonato alla segretaria Daniela Barbaresi. L'espressione del dissenso e delle diverse opinioni ha detto il governatore non deve mai sfociare nella violenza e in atti intimidatori che non sono mai giustificabili da qualsiasi parte essi provengano. Abbiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti, ha concluso, affinché possano individuare quanto prima gli autori di questo gesto gravissimo per consegnarli alla giustizia. Un blitz dei carabinieri ha liberato ieri pomeriggio un 25enne inglese sequestrato da circa otto giorni in un appartamento a Monte San Giusto in provincia di Macerata. Arrestate quattro persone, tre uomini e una donna, dei quali due stranieri e due italiani, tutti residenti nel Maceratese. Molti gli aspetti ancora da chiarire. Il giovane era in vacanza in Italia, da mesi per lui sarebbe stato chiesto un riscatto di 7 mila euro. Il 25enne è stato trovato ammanettato e scalzo, chiuso in una stanza dell'appartamento e controllato a vista. Il ragazzo è riuscito a chiedere aiuto durante una telefonata ai familiari in Gran Bretagna per la richiesta del denaro, durante la quale ha spiegato in codice di essere trattenuto contro la sua volontà. Ora è in una situazione protetta. Sta bene, ma è molto provato psicologicamente. La compagnia carabinieri di Urbino ha arrestato un uomo ritenuto responsabile di una rapina a mano armata e hanno anche denunciato due operai per aver rubato un portafogli contenente 1000 euro a un anziano del posto. Filippo Pucci. Gli era accaduto nel parcheggio di un supermercato mentre faceva manovra con l'auto. A quel punto due siciliani, una volta visto il portafogli a terra, si erano avvicinati e non ci avevano pensato due volte. Uno aveva fatto da palo, mentre l'altro lo aveva raccolto in tutta tranquillità. Peccato che il furto era stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, le cui immagini sono state vagliate dai militari della stazione di Urbino, dopo la denuncia da parte dell'anziano derubato. Il fatto risale a 2 settembre scorso, quando il 77enne, che era andato a fare la spesa, si era accorto di aver perso l'oggetto contenente 1000 euro in contanti che gli sarebbero serviti per effettuare dei pagamenti. Dopo aver chiesto informazioni alla cassiera e aver cercato in vano nel parcheggio, si è recato in caserma. L'attività investigativa si è conclusa ieri con due denunce a piede libero nei confronti di altrettanti uomini di 32 e 40 anni, entrambi operai incensurati, che erano arrivati nel supermercato della città ducale a bordo di un autocarro da lavoro. Il denaro, invece, è stato restituito alla vente diritto. Inoltre, i militari della Compagnia Carabinieri di Urbino, comandati da Renato Puglisi, hanno eseguito un arresto presso una comunità terapeutica di Pesaro. A finire in manette, è stato un 52enne di Urbania destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione per la pena di due anni e 11 mesi. L'uomo, nel dicembre del 2017, si era reso responsabile di una rapina aggravata e quindi a mano armata ai danni di un istituto di credito di Urbania. Questa mattina è stato portato nella casa circondariale di Villa Fastigi. Si è reso responsabile di una consistente evasione fiscale l'imprenditore fanese a cui la Guardia di Finanza ha sequestrato circa 150 mila euro tra denaro e beni. Tutti i dettagli nel servizio di Letizia Marchionni. La Compagnia della Guardia di Finanza di Fano, su disposizione del giudice per le indagini preliminari di Pesaro, ha dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo per equivalente per un importo di circa 150 mila euro del denaro presente nei conti correnti bancari e di altri beni nella disponibilità di un imprenditore 38enne di Fano, responsabile di una consistente evasione fiscale. Fondamentale per le indagini è stata la sinergia tra Procura, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. A seguito di un controllo per omesso versamento di ritenute fiscali per l'anno di imposta 2016, eseguito dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del rappresentante legale di un'impresa di confezioni di abbigliamento, situata nel comune di San Costanzo, è stata fatta una segnalazione all'autorità giudiziaria. Il giudice per le indagini preliminari di Pesaro, poi, ha accolto la tesi della Procura ed ha emesso il decreto di sequestro preventivo per equivalente di denaro e beni fino alla concorrenza dell'importo dell'evasione fiscale. Infine, la Compagnia di Fano ha effettuato gli ulteriori accertamenti per la ricostruzione della capacità patrimoniale e finanziaria dell'imprenditore 38enne. Al termine delle indagini è stato possibile sottoporre a sequestro alcune disponibilità liquide presenti su conti correnti bancari pari a circa 12 mila euro e due unità immobiliari del valore di circa 140 mila euro, raggiungendo così la capienza prevista. Invece la Polizia di Stato ha sventato in pieno centro a Pesaro una truffa ai danni di una coppia di anziani e arrestato in flagranza il truffatore che, avvicinatosi a questi, si era fatto consegnare una banconota da 50 euro. Nello specifico, gli investigatori della squadra mobile che si trovavano nelle vicinanze degli anziani avevano ascoltato l'uomo menzionare il figlio della coppia, accreditandosi come amico di quest'ultimo. Poi aveva preso il cellulare simulando una conversazione con il figlio, facendo capire che avrebbe dovuto consegnare loro degli oggetti in cambio di 100 euro. Una volta terminata la conversazione ha preso due scatole di piccole dimensioni che ha infilato nella tasca destra del soprabito indossato dalla donna. A quel punto l'anziana ha estratto i suoi portafogli e prelevato una banconota da 50 euro che l'uomo gli ha tolto di mano. Gli agenti sono subito intervenuti e l'hanno arrestato. Il giudice ha stabilito gli arresti domiciliari. Ed ora passiamo all'appello di Michele Giovagnoli, scrittore e alchimista contrario al Green Pass che gira nelle piazze di tutta Italia per lanciare un appello, quello di fermarsi per fermare il sistema. Pochi giorni senza il nostro servizio e questo sistema collassa. È tempo di coraggio e verità, è tempo di scegliere. Dal 15 ottobre io mi fermo ad oltranza, nessun compromesso morale fisico. È l'appello lanciato da Michele Giovagnoli, scrittore, alchimista e amante del bosco, così come ama definirsi, partito ad inizio agosto per girare le piazze di tutta Italia. Ad oggi almeno una quarantina. Originario di Carpegna ha deciso di intraprendere un viaggio su e giù per lo stivale con l'obiettivo di diffondere il suo pensiero sulle restrizioni anti-Covid, ma soprattutto per fare in modo che le persone possano incontrarsi. Il loro sistema è molto più vorace di noi. Basta una settimana che si ferma. L'avete visto quattro giorni fa si è fermato Facebook e Whatsapp per sette ore non funzionava più niente. Allora cosa farò al 15 ragazzi? Io al 15 mi sveglierò quando avrò finito il sonno, mi faccio una bella colazione, accarezzo i miei gatti e poi mi vado a fare una bella passeggiata. Sto fuori e inizio la mia grande festa perché non sto andando incontro a una battaglia. Ragazzi la battaglia l'abbiamo già finita. La battaglia era arrivare integri qua e ci siamo arrivati e c'è arrivata una persona su tre e se c'è una persona su tre integra loro non vanno più da nessuna parte, da nessuna parte. Tanti applausi ed acclamazioni nelle piazze e migliaia di commenti e condivisioni dei video pubblicati in diretta sulle pagine social. Michele non si arrende e non si piega gli obblighi decisi e imposti dal governo. Michele qual è l'obiettivo del suo tour in giro per l'Italia? Allora innanzitutto voglio incontrare le persone perché quello che hanno fatto è isolarle, incontrarle, farle sentire che non sono sole, farle sentire che c'è gente che spinge, che ha forza, che ha entusiasmo e poi voglio riportare, voglio riaccendere questo istinto d'amore nelle persone che porta alla solidarietà, alla collaborazione, a far nascere e portare avanti questa società parallela che già c'è. Quindi è un intervento che si presenta come un semplice incontro in piazza e invece è una potentissima macchina magica. Le agora d'amore sono proprio delle macchine magiche che permettono alle persone di attivare un potere enorme e ne abbiamo visti i risultati. Ecco però lei durante questi incontri parla anche delle nuove norme imposte dal governo, ad esempio lei è contrario al Green Pass, per quale motivo? Perché sono un essere umano e indipendentemente dal fatto che uno voglia farsi questo vaccino del quale non si sa ancora nulla, sono un essere umano e quindi tutte le volte che vogliono dividere gli esseri umani mi troveranno contro e questo è un provvedimento che nasce come conseguenza ad un atteggiamento di controllare le persone, non ha niente a che fare con l'emergenza sanitaria, sempre che si possa parlare ancora di emergenza, visto che le cure ci sono, ci sono tanti atteggiamenti che possono far approcciare questo tipo di situazione e quindi è il primo passo verso quello che è un progetto malefico di gestione e di controllo delle masse. Siamo italiani e ricordiamo la tessera verde nei periodi proprio più bui del nostro paese e quindi dobbiamo assolutamente fare in modo che questo provvedimento venga ritirato, stracciato e che lasci nella memoria delle persone questa informazione. Tutte le volte che qualcuno vuole dividere l'umanità contro quella persona bisogna orientare il flusso d'amore più grosso che abbiamo, quindi farlo retrocedere. È come avere un incendio in casa, adesso dobbiamo spegnere questo incendio e cacciare il piromone. Lei invita le persone a stare ferme, che cosa intende? Stare ferme significa innanzitutto non farsi prendere da quello stato di paura che vogliono indurci. Stare ferme significa ricordarci che abbiamo una potenza enorme e che questo sistema senza di noi non funziona. Ce l'ha insegnato Gandhi, aveva un tiranno davanti a sé enorme, noi abbiamo una stessa situazione, basta che non rispondiamo a quegli stimoli di rabbia, di reazione e che facciamo forza su quella che è la nostra reale forza. Senza di noi questo sistema non funziona. Qual è l'arma più forte? Fermarsi. Ci fermiamo noi, ci devono fermare anche loro. A partire quindi da domani, da venerdì? Esatto, domani fra l'altro festeggio questo inizio, domani sono a Pesaro, in piazza Lazzarino, ho chiesto passi piazza del popolo ma me l'hanno spostata a piazza Lazzarino e saremo lì davanti al Teatro Rossini e sarà il primo di tutta una serie di incontri dove andremo a celebrare quella che è stata la nostra letteralmente, la nostra fermezza. Non ci hanno spostato di un millimetro, volevano dividersi, ci hanno unito, volevano annullarci, invece stiamo crescendo e secondo me a breve ne vedremo veramente di belle come si suol dire. Siamo arrivati liberi su questa terra, liberi ragazzi, liberi torneremo a casa con tutto l'amore che posso, sentitevi ben di sempre. Per il trasporto pubblico locale da domani sono previsti dei disservizi, infatti come spiega l'assessore regionale Guido Castelli i gestori hanno interrogato i propri dipendenti sul possesso del Green Pass e le risposte, prosegue l'assessore, non sono state confortanti prospettando un quadro che potrebbe portare per treni e bus ad una riduzione delle corse. Si parla di defezioni che arrivano al 14% degli organici facendo venire meno decine di autisti e macchinisti, quindi in base a quanto emerso durante i tavoli e i confronti si darà priorità al trasporto scolastico, i gestori comunicheranno sui propri siti quali servizi verranno garantiti ma nonostante questo non si escludono dei disservizi ulteriori a causa dell'imprevedibilità della risposta che si avrà sull'obbligo del Green Pass. La Fisi, Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, ha indetto uno sciopero per il mondo della scuola che va dal 15 al 20 ottobre. Sebbene la Commissione di Garanzia abbia invitato l'Associazione al ritiro dell'assenzione, la Fisi ha confermato l'azione di sciopero. Pertanto, salvo un'eventuale revoca, potrebbero essere a rischio i servizi scolastici. Ad esempio, così come ha precisato in un avviso anche la dirigente scolastica dell'Istituto Leopardi di Calcinelli Saltara, non è possibile fare previsioni attendibili sull'adesione allo sciopero di docenti e personaleata e sui servizi che la scuola potrà garantire. Quindi i genitori in queste cinque giornate sono stati invitati a non lasciare i propri figli all'ingresso senza essersi prima accertati dell'apertura del plesso e del regolare svolgimento delle lezioni. E anche ASA e TESPIA non esclude ripercussioni e possibili anomalie in merito al regolare svolgimento dei servizi erogati, data l'impossibilità di ammettere in servizio i lavoratori sprovvisti di Green Pass. L'azienda dunque non può garantire la piena presenza del personale a partire da domani, ma assicura l'erogazione dei servizi essenziali come la raccolta porta a porta e lo svuotamento dei cassonetti presenti in strada. A Pesaro e Gabic, invece, da domani tutte le farmacie comunali potenzieranno il servizio di diagnostica anti-covid. Il presidente di ASPES, Luca Pieri, fa sapere che per venire incontro alle esigenze dei lavoratori e delle aziende. Oltre a incrementare il personale, sarà anche rafforzato l'orario dedicato al processamento dei tamponi. Inoltre, di fronte alla farmacia di Via Giolitti, è stato realizzato uno spazio che fungerà da hub per effettuare i test rapidi. In questo modo non si intralcerà l'attività ordinaria della farmacia, zerando i disagi per gli utenti. Infine, ha concluso Pieri, è possibile sottoscrivere un abbonamento a 5 tamponi al prezzo di 60 euro. Intanto non si fermano le iniziative popolari di protesta contro il certificato verde obbligatorio. Il movimento No Paura Day, sabato, torna a far tappa ad Ancona. Una manifestazione che raduna persone fortemente contrarie alle misure anti-covid come il Green Pass. Avvocato, ci sarà anche lei in rappresentanza del Comitato Salute e Diritti a Scuola Marche. Dunque è una protesta che continua. Sì, esatto. La protesta continua, una protesta sempre e comunque pacifica per il riconoscimento dei diritti costituzionali che in quest'ultimo periodo vengono mano a mano violati in tante forme diverse. Diritti che cercano di essere anche tutelati con le battaglie portate avanti dal Comitato. Assolutamente sì. Noi come Comitato siamo vicini soprattutto ai genitori, agli studenti, agli alunni delle nostre scuole. Stiamo mettendo in atto delle azioni proprio a tutela del diritto fondamentale all'istruzione ma anche a quello dell'inclusione e della parità all'interno degli istituti scolastici. Abbiamo svolto tante attività in passato, ci stiamo già organizzando per nuove attività. L'ultima è quella del Vademecum, cioè un insieme di risposte a tanti dubbi che i genitori hanno per affrontare quotidianamente la vita all'interno delle scuole. Sabato dove e a che ora si svolgerà l'iniziativa? L'iniziativa è organizzata nel capoluogo, in Ancona, in Piazza Roma, dalle ore 15 e 30. E chi saranno i relatori? Beh, oltre alla sottoscritta abbiamo anche dei personaggi di caratura nazionale come l'Avvocato Fusillo e il Dottor Spoglio. Ci saranno anche altre manifestazioni di questo tipo nei prossimi giorni? Credo proprio di sì perché la protesta continua è una protesta di civiltà, prima di tutto, da persone che sono libere e si aggregano senza nessuna bandiera politica per un fine unico che è quello della libertà. E domani sarà la volta di Pesaro dove esiterà una mobilitazione generale sempre contro questo passaporto verde in adesione allo sciopero proclamato dal sindacato Fisi. Il programma dell'evento prevede un presidio dalle 9 alle 13 in piazzale Lazzarini. Il luogo della manifestazione, infatti, che prima era prevista in Piazza del Popolo, è stato cambiato dalle forze dell'ordine per motivi di sicurezza. Adesso l'aggiornamento sul Covid. Sono 40 i positivi registrati nelle ultime 24 ore nelle Marche. La provincia più colpita è quella di Ancona con 13 contagi, mentre a Pesaro Urbino se ne contano 8. Negli ospedali della regione i ricoverati sono 54 in totale, meno uno rispetto a ieri. Sale di uno il numero dei pazienti in terapia intensiva, mentre resta invariato quello dei degenti in semi-intensiva. Infine oggi non si sono verificati i decessi legati al virus. Altra notizia che riguarda i vaccini. I marchigiani con più di 60 anni da sabato 16 ottobre potranno prenotare la terza dose di vaccino sul sito dedicato oppure chiamando il numero verde o con le altre modalità attivate da poste italiane. Tutti i dettagli li troverete anche sul nostro sito occhioallanotizia.it Ed ora andiamo a Pesaro dove ieri è stato presentato il progetto della pista ciclorotellistica che sarà realizzato in zona Torraccia nei pressi della Vitrifrigo Arena. Il comune di Pesaro continua ad investire nello sport e dopo la ristrutturazione dello Stadio Benelli e la dismessa della vecchia pista non più a norma arriva anche il circuito di ciclorotellistica che sarà realizzato nella zona di Torraccia nei pressi della Vitrifrigo Arena. Grazie agli 800.000 euro stanziati dallo Stato e altri 700 dal comune di Pesaro la città sarà dotata di un moderno impianto sportivo dalla duplice veste composto da un circuito di oltre due chilometri destinati al ciclismo in grado di ospitare anche competizioni a livello nazionale più un anello interno di circa 600 metri dedicato alla federazione rotellistica per allenamenti di pattinaggio di velocità. Un investimento ha sottolineato Valentina Vezzali sottosegretaria di Stato con delega allo sport collegata a distanza che permetterà a due realtà di dotarsi di un impianto importante per la promozione dell'attività giovanile in linea con il concetto che lo sport è per tutti e di tutti soddisfatta anche Mila della Dora assessore allo sport del comune di Pesaro. È un impianto sportivo omologato dalla federazione ciclismo tant'è che la federazione nazionale ha sostenuto questo progetto con lo stesso governo quindi erano presenti qua insieme a me anche la sottosegretaria Valentina Vezzali e il presidente Cordiano Dagnoni il presidente nazionale e nonché il sindaco Matteo Ricci quindi come amministrazione siamo veramente soddisfatti di poter dare una risposta a quello che è un movimento sportivo importante. Il via ai lavori è previsto per la prossima primavera ad aprile e dureranno circa sette mesi e comprenderanno anche lungo il perimetro del circuito la realizzazione di una fascia di sicurezza libera e priva di ostacoli due piazzole di sosta una tribuna dedicata agli spettatori un percorso pedonale di collegamento ed una piazzola dedicata a gazebi ed allenatori. Sarà poi predisposto anche un impianto di illuminazione che consentirà l'utilizzo della pista anche di notte. Abbiamo tanti ciclisti che sono in strada e quindi volevamo dare un impianto che permettesse anche di allenarsi in sicurezza ma anche un impianto che desse una risposta all'attività di base. Abbiamo tanti ragazzi appassionati tanti giovani ciclisti che vanno ad allenarsi altrove. Ecco, vogliamo dare una risposta a loro vogliamo che il movimento ciclistico possa ripartire nella nostra città quindi dando un impianto che è veramente un impianto un'eccellenza a livello nazionale. Oggi a Fano si sono verificati due incidenti il primo alle 15.20 in via Papiria dove una ventenne fanese ha perso il controllo dello scooter uno scarabeo finendo a terra. Le cause sono ancora al vaglio della polizia locale di Fano la ragazza che nella caduta ha riportato lesioni e è stata trasportata al pronto soccorso del Santa Croce. Il secondo sinistro invece si è verificato alle 16.30 in via Terza Strada a Bellocchi in questo caso sono rimasti coinvolti un diciottenne residente a Fano a bordo di una Fiat Punto e una donna di 65 anni in sella alla bici insieme alla nipote di 7 anni. La bambina è uscita illesa mentre la donna è rimasta ferita sul posto al 118 ai vigili urbani. Ancora cronaca i carabinieri forestali di Sassoferrato e Genga Frassassi in collaborazione con la polizia locale Elasur hanno sequestrato 10 cani e due gatti maltrattati. Le due proprietari infatti tenevano i filini chiusi in piccole gabbie piene di escrementi e resti di cibo mentre i cani che vivevano tra la sporcizia presentavano alcune patologie non curate ma anche una massiccia infestazione da pulci. Gli animali che sono stati affidati alla custodia del sindaco di Sassoferrato ora sono assicuro nel canile sanitario e assicurati le cure dei veterinari dell'Asur e le due proprietarie sono state denunciate e rischiano da salate e sanzioni all'arresto fino a un anno. Cambiamo argomento sono già 400 gli iscritti alla Caminata in Rosa l'iniziativa organizzata dall'assessorato alle pari opportunità del Comune di Fano per sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione e cura del tumore alla mammella La prima Caminata in Rosa nella Comune di Fano quest'anno ci coordiniamo insomma con tante realtà associative del territorio che hanno voluto contribuire a questo appuntamento per dedicare un appuntamento appunto di movimento insieme una camminata libera per la prevenzione e la cura del tumore al seno all'interno del mese dedicato alla prevenzione in un calendario di appuntamenti molto ricco e questo è uno di questi è una camminata che si svolgerà domenica domenica mattina abbiamo avuto già tantissime prenotazioni voglio ricordare per chi volesse ancora prenotarsi è possibile farlo chiamando al numero 0721 887337 oppure in una piattaforma online dal sito del Comune di Fano in quell'occasione verrà distribuita la spilletta del mese della prevenzione e la maglietta dedicata appunto a questa giornata un evento libero non agonistico per cui non c'è l'obbligo del Green Pass diciamo che siamo saremo in molti per cui nei momenti in cui magari si è un po' più vicini sarà utile comunque avere magari la mascherina uno se la porta così nella mano e magari con se c'è un po' più di vicinanza se la mette l'obbligo di disinfettare le mani insomma noi distribuiamo ci saranno dei dispenser al momento dell'iscrizione alla mattina in piazza 20 settembre quindi si potrà comunque disinfettare anche le mani quindi mani disinfettazione delle mani e mascherina vi annuncio che il sindaco di Fano Massimo Sere lunedì prossimo alle ore 21 in diretta sarà ospite a Primo Cittadino il telegiornale invece termina qui a voi tutti l'augurio di una buona serata Grazie a tutti